c'è andrea borsi spettomotimo non posso andare sul sito di un piatto con soldi ma tu hai la opt-in-blue, sei serio? si ma dove le prendi ste cose? no, allora c'era l'account di sto mio amico, so tanto che lui non avevamo fatto gli scambi e quindi glielo ho fatto trovato l'opt-in-blue e poi anche quelle reaktor, non so, non voglio cazzo se ne trovate io non c'ho solo c'è che mangiare ruote sono sono queste qua eh eh boh Matti dice che sono orari non lo so valgo un po' boh allora le notti gli oggetti della serie iniezioni sono ora disponibili cerchi nel negozio di oggetti e nei progetti eh l'aureo, eh l'aureo la boh, dimidici, dimidici, dimidici eh l'aureo la bianca titana, ce l'ho blu 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 ce l'avevo viola io non l'ho mai trovato chi c'è con quel plazzo? sbada bench che bello no ma chi c'è che c'ho, no raga chi c'è che c'è l'aureo la bianca titana tucco non è blu, cioè quella è normale oh oh mi sento c'è Dennis che mi sposta se non parlo perchè non mi sposta devo uscire dalla rocket chi ti sposta? Dennis via Dennis di non rompere il cazzo rosa standard sì ma a me non piacciono tanto ste ruote vabbè gioca se matti è già io sei andato a prendermelo oggi anche solo che ma è mamma non mi fa uscire non vuole che esca di casa sì ma meglio fa me lo prendere e se vuoi posso avere fino a sotto casa si aspetta raffancio vuole posso chiedere no sì se vuoi che cazzo è? vaffa vaffa eh ok c'è già il noto non lo so vabbè com'iato po' peppo 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 ho chiamato un pochino peppo 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 no più volte no laga oh no dai non ci fa ma che minera no eh abbiamo fatto il pincere ma peppo 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 andrea andrea toccalo po ma pigli di putt ella bravo mi ha fatto ugualmente troppo in fretta assoluto po' ho finito da che cazzo di rimbalzare ma stanno scazzando sicuro tranquillo che l'ha buttata lui fuori porca troia non ci arriva eh gopnik paul paul gliat mal copnik ma è già lì eh già lì attaccato a romper i coglioni ma sopra mi importa tranquillamente si e' già lì raffa oh oh ma perchè mi tirai nella gaffina vorrei fiare no ragazzi qua sofforti mia che forti guarda quanti una potere bussaro tutto il cazzo guarda lì già lì ma che pensa al matchmaking se io ti possono magari a zero quanti per uno smart siamo a zero.it metti quello da diamante 3 figa sei a come le viaccenti ma va e perchè il matchmaking in teoria doveva abbassarsi in teoria poi o la gala carica con una fase le palle sul muro e chi ti può e le viso praticamente sempre con la nissan le prendo tutte ti giuro non so perché ma con la nissan mi trovo troppo bene ma perché tu da quando era nissan e perché andre gioca con l'account e di questo suo amico e io a io gioco con l'account di andre ecco perché ma perché ce l'è ma io c'è questo partito io per questo ce l'avevo la l'ho tolta lavati mobile perché con le panerie andrifici ti giuro che è che con quella macchina veramente o la gala è che veramente guarda lì già e poi dire sti quando sono morti la figa ogni palla che arriva la mettono l'addio guarda che cazzo puoi farci quanto gente del genere gol bravo non so che cazzo ha fatto quello bebi se la vie e pensavo che il cane faccesse qualcosa no tu pensi pensa se non pensi sembra che ci bisogna di copiarmi no dai ho preso te ma ti ho eh dai porta libera tu guarda ma ti ha subito ricchio e lì è già lì raffa vero lui è già lì eh lui è già lì eh lui è già lì dai che li ho spinti in 3 miliardi no che paura inutile lago lago ciò spreppo ciò spreppo ciò spreppo ciò spreppo no non è esploso no ah poi pince mi riescono tutti ecco la nissan ma se cosa vuol dire tutti no no che cazzo vuole va bene sì quanti da sto mamma oh tranquillo vedi così ma c'è un sprezzo c'è un spreppo così o se le fanno esplode tocca la tocca ancora tocca la non metterlo toccata sì ma non eh ma non cosa vai ora è sul muro non verso la porta eh sì ero per terra da lì ma perchè infatti dio povero c'è un coglione c'è un coglione sua madre è proprio una puttana dai che schizzo eh rimane lì rimane lì eh rimane lì giasti li abbia sbagliato noi due tanti comunicazione andaci semplicemente matte perché quando si è abbassato un pochettino non c'era solo che l'abbiamo abbiamo messo in confusione che siamo andati tutti se la vi se la vi se la vi se la vi matteo ha lasciato lì coglione lì così la vi ma quando una busta raga guarda un certo 1 1 si è molto girato all'indietro tu non è che stai facendo di me io lo stavo contro bene spingimi un'altra volta questa vita è certo il contesto della totale che comincia va in mezzo perfetto va bene ciao andiamo via o fai una norma perché sto cazzeggiando non mi vado a tagliare no tutti i metri tra gli altri vai ho sbagliato figo è veramente la fe troppo bello fa è lo smash perchè ti giochi è delle partite proprio easy ma se non dire easy si ma non mi fai un cazzo giocare easy devi salire non mi fai un cazzo poi tipo se ci classifichiamo bronzo ma sai che figo no 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 nulla 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 non ci batte cazzo è vero cazzo è vero no tu adesso ti metti ti impegni i giochi coglione no dai non c'ho voglia di tre gazzoni così baby se la vi che figa l'ho c'è un'azurra oh se vuoi se vuoi io ho un po' più figa una mood cut gt mi chiamano qualcosa come 10 tutti i colori son fatto così baby se la vi non ci credo non ci credo mi basta sotto dai ah affanculo dovevo schimare qui che è dai tre palazzi cazzo è andata la palla volata no dai ci ho spinto sul busto che mi serve mai mattino in mezzo con sta macchina le viste sempre prendi una macchina lunga ma alta cazzo è quale dopo guarda quale io pensavo perché se ne stiamo sarebbe diverso bravo 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 e che rimane bastardo figli di te perché sto qua sbaglia io faccio così ezi e si è già tutto te pianto del passaggio alle piatte e canel po 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 guardate qualche kickoff o l'aria o l'aria o l'aria con po 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 pà sicuramente Natürlich lato tipo studenti la faccuna list e tutto quanto cosa ti metti mezzo le Menschen grandi di cazzo volate poter passaggio in fondo ero l'ho vista detto è qua mi dovuta nella mischia la butta dentro fake fake e poi uno va adesso una sinistra no cazzo come cazzo hai fatto a metterla così storta ma sì perché perché non sapevo se togliermi proprio detto no vabbè la tiro l'ultimo l'ho fatto in tempo della favore ci sono tutta la sua mamma prende porta o esci brava domenica fuck proprio dove c'era lui ciao hai rotto un cazzo eh zi no ho provato un muro tranquillo oggi voglio vedere il live pool vabbè allora vent'ora di lì al pool mi scrivo non ci arrivava fai schifo si ci vuole arrivare benissimi sì 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 guardi dimmi come c'ero dimmi come ci poteva arrivare i quarti per anni dopo di un caso ci arrivavo prima sia la fa fidati ci sarebbe arrivato ma dovevi partire prima grazie al cazzo ma se sono partito dopo non poteva arrivarci questo è cosa che si intende di sempre tutto non so non so portano di spiaggia un busto ma come no a me che non c'è un busto hai vissato e posto io non c'avevo busto e va a vedere la il coglione tutta cosa fa sì ma moriti è stata prima salta prima coglione bravo è presa bravo è presa è lui la presa sì e va bene la sua devi volare per forza mi hanno spinto bravo rossa colpa di matto da vera non c'è lì sì ma hanno spinto dio fama aspetta guarda no ma è matata al pallo bastardo ragione e cazzo dici ascolta fai almeno un gol poi fanno qui o rigare via e perché mi scordo perché di solito vai sempre che c'è qualcosa che tu ricordi no e lo so che mi ha spinto secondo gol per colpa di raffa bravo raffa la merda per colpa ho già di piazzare la fai 26 secondi per zaccino tutto a prendere in due dio fa cocelo dai maggi vai 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 domis baci matte dai ascolta e non ci sono cazzo però è non dito non piglio mai buste non ho mai busto dio santo e mai ne prendi ogni volta che avete un busto c'è andre sopra dio santo non è vero è successo una volta allora no 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 i platini due sono sceso platini due di fanno eh andre con il faduolo che abbiamo perso stavarta cazzo andre ma cazzo sei ancora dai a mondi ci sono salito con Danny e Ralph no oggi punto vedi chissà perché con me si sale con te l'homa e ti ricordo che siamo arrivati a dare un pre non è vero non siamo arrivati a chiamo scendiamo di nuovo vabbè comunque sia non siamo da qualche pc che faccio ma non ci credo che abbia cattoluno vai a cagare ma sì che lo puoi fare così ecco c'entra sul bus sempre coglione a prendo io no noi sera di senza per niente se neanche la dignità quello cosa nato non troppo io le pere guardate adesso che il cof che vi faccio perfetto e perfetto la scuola avesse vissato bello cos o lago 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 non so perché Jake no no ma te ma che cazzo ma figo ma perché l'hai toccata scusa ma questa si chiama one per quando molto terribile che cazzo ha fatto fa troppo ridere ma porco dei si aiuta e cagà ma cosa si fa te non ho fatto nulla ancora ma poi io ho fatto io gol quindi esatto la stessa ho fatto io hai fatto gol inizio ma quanto culo hanno dai e gli ha la pazza i coglioni nella maghi poi vai a cagare alla ragazza raga questi hanno tiri dai rapati prego se l'altro cavo dritto c'era lui che cazzo ci posso farlo ma perché se vintre qua non è solo in porto sì però non mi spingere di continuo dio mio sicuro la prenderai come l'olio anche tu ha perché l'olio si prende l'olio si prende ma che non è vero che che chi ero fatto in mezzo in mezzo no sono storto e guarda dove finisce minchia calcolate vai esci gig esci tra i palazzi ma che cazzo cosa non dubbi a tutti ci penso io ragazzi no abbiamo non ci credo che è suo che è suo guarda adesso rifaccio un altro perfetto se mi viene addosso l'esì da venire non sopportare ma vai dai raga sti figli e di puttana ma non fai cazzo 150 euro di pizza 3 tiri 3 gol così si ragiona è vero ma che bello adesso la tiri bavo e non è facile ah no no per niente facile easy non ci credo niente è facile no no tutto facile tre palazzi come ciclo questo che da buttaccio si è fatti così vedi se la b bello perfetto da qua l'ho preso un po' male beh anche questo 2 air drive è stato un passaggio con un passaggio a loro bello è riuscito e io mica ho detto a noi ho detto che era un passaggio poi hanno detto se è a voi amico anche questo bravo complimenti per gli passaggi passaggio passaggio danno eeeh figa ho questo clia guardate dove sono arrivato ma d'occhi è clia guarda era gente guarda attenzione japanese down syndrome minchia ti sei fatto fare gol basto cogliamo guardate le foto a lei presa il complimenti bravo che controllo di palla attenzione sono in me bravo bravo intanto quell'altro l'ho ficato malissimo dai volala mi ha spinto bravo continuiamo la gita con l'egito si la gita di raffa che si è tornato a casa no è un retropassaggio non l'avete inteso non mi fingere ti vedevo indeciso vedi dai ma vai a cagare dio santo ma ti vedevo indeciso si figa guarda che cazzo eh appunto ti ho detto dai ma vabbè che cazzo dai andiamo siccone cannesca a casa tu cazzo ma non mi fingire che la fa a volte avrei matto un po' sporcare che si cazzo e dice eh eh dai dai non è a cagare oh ma oh e poi se non la prendi ti aiuto io no dai c'era su tre palazzi no figo era altissimo cazzo era venuto mi chiamo che si alza veramente proprio è una serata rollo easy su foto è un fake il cane piange eh raga non abuso sono levate bravi easy tranquillo porca altera ma mi finisci sempre in bocca ma che cazzo ti vedevo indeciso parata chi di buttano che ha sì non ci credo non lo credo e ti giuro che si sa è che prendesse l'attraverso infatti sono andato lì per prenderla oh mio dio non lo credo a creare forti 154 primo ragazzi primo prima infatti sei il primo coglione star ma chi che sto ma te è bello non so ma risposto è bello sto patino 2 vero è proprio schifo fa fastidio fa fastidio e non fischiare il dio porto maia mi raccomando fa schifo o ti faccio un kick off che lo so no no qua non posso perché c'è vedi e qua non posso eh già vedi capito non è che va a caso perché non è che va a caso no 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 raffa va che e non va a caso te lo posso garantire a scuotere quel motivo io li dico sempre il kick off almeno l'80% delle volte li vinco vai vai rifrasca 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 i need a boost i need a bell dai jig dai dai tra i palazzi oh guarda palo di merda sono in mezzo mi spingono stai facendo non ce l'avevo io le mezzo le mezzo le mezzo le giga la madonna dovevi gigare la visita bello ma mi so la faico bella assisti no tranquillo guarda po' futtana nice tre palazzi ci sanno coronavirus 3 milioni di visualizzazioni in una settimana non riesco più a uscire di casa bello figo qualcuno mi può aiutare mi hai preso assurdo avete un pro easy ads guarda si fa l'assist e anche il gol da solo easy guardate che il gol ads proprio tutti fermi ragazzi tutti fermi tutti fermi tutti fermi vala tamero volo io adesso mi raccomando cosa mi ha preso tamero ha scritto tamero lasciala piccolascio la passata grazie bravo ma in quanto sei preciso ascolta quanto i golai quindi perfetto no bravo perfetto perché la gente mi fai fake beh perché la gente la gente fa più fa anche i bocchini cambia gioco ferma 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 ma sei un coglione ma per fermo la fai vuole fare sui cazzo ne frega del suo eredito che chiaramente ti sarebbe venuto si è unito raga siamo 3 quanto 3 e pace che calia doveva impegnarci tipo mi ha sminto bravo era un passaggio per andre non capisci le mie azioni bravo bravo bella bella sabongia complimenti bella passaggio bel passaggio cosa vuoi fargli di più dai continuiamo questo bel clear non si può dire vai no quasi e ve lo finciamo ma che porco Gesù ci sono io non so se ci arrivo qua bravi che culo e ci è arrivato ci sta ma ci sta ma ci sta siamo cani scommetto che hai fatto il soppio salto bravo ma che cazzo c'entra quando si viva il doppio salto ma che io e ci sono arrivato solchino perché non ci arriva guarda 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 che ti faccio e calcolati capito sono calcolati sì ma guarda c'è guarda Gesù coronavirus no raga vi prego buchiamo la vita per l'italia raga per l'italia ma perché la tochi cosa chi ma hai fatto il colpo facile del mondo ah ma per cazzo parla mica ti vedo eh ma sono concentrato perché voglio bucarti qua bel passaggio grazie vai addosso non andare in porta muoviti si è distrutto bravi vi ho superato i due oh no qualcuno non ci credo cioè ci hanno recuperato in due secondi perché in due conto tre dovete fare i ritardati ascolta ma tu hai zero gol e parli cioè io non lo so tre conto due dovete fare i mongoloidi cazzeggiare ma tu hai zero gol e parli più fama ma se li hai fatti a porta libera che loro la lisciano che cazzo vuoi e tu neanche a porta libera dei fatti andate perché sei fermo cosa dovevo fare ci provavi non avevo busto la palla era alta partate startati brava brava le 10 devo andare quindi multi eh così verso le 10 vado a fare cose niente poi torno non penso verso le 4 domani ho lezioni sveglia le 10 vediamo le partite se già qualcuno ha sboccato qualcosa paris saint germain 1 a 0 gol di neymar vivo sto facendo la sega se li per pure fuori veramente wow and whisper the sound of silence e di che riesce che ho fatto sta cagata indoviniamo voglio indovinare l'ho fatta apposta tanto sa voglio non è compagnolo che l'ho fatta piova indovinare guarda l'ho fatta incredibile il ciclo il più forte di tutti l'ho fatta apposta ragazzi non c'è un po' che ho mai visto un pubblico questo kickoff coglione non è un po' 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 vado questo non è un po' mai visto grazie toglie anche i palloni perché è vero che infatti c'è caricato anche prima con 0 che cazzo mi spinto bravo eh non dribbare così bene veramente parla cogliono parla cosa parla cosa che ha fatto andare tutto ma perché minchio ma l'è clear sta troppo bene oh wow sta di flicca forte nice nice goal oh my god oh my god è un pro guarda che è un pro veramente un pro un pro kicka la palla poi la prende e gli regala il goal non sanno in confezza grazie gianni un pro chiaramente immagino che sia chiaramente quella che tu stai facendo eh volevi imitarmi no volevo provare a fare il musty flick il musty flick? si un kickoff? si si può fare si proprio coglione ma si sa la prendo io questa no la prende Rafa tranquillo questa si Rafa lascia perché devi far gol? voglio afflamare un po' così insultano noi l'Italia che divertimento signore vero minchia con sta parte di Jigoro è stata epica minchia Rafa hai preso il busto easy adesso serve con i missi l'altro no bravo aia bella che tocco tocca sta dove però e non so se fosse jump reset no ancora no pensavo di averlo toccata devi chiedere a Danny a lui lì si sa dire che cosa hai fatto di preciso la raga io sono il live e poi ti dice di imparare a fare 45 e si che mi ha spezzato la sera dei 45 sono il live che poi in chiamata che poi in chiamata e gli dicevo dicevo è vero la fai che mi impara a fare i 45 e dicevo eh vedi io l'ho detto anche io guardate adesso che no scherzavo eh non l'ho presa oh dribbato ciclo un po c'è un po' di libretto no dove stai andando questo giorno sono a prendere il bus ma infatti ho visto che anche adesso grafica io direi che possiamo fare anche così adesso facciamo una bella modalità ma adesso fai una bella modalità io esco se non è normale esco ecco ma chi è la comodo la comodo è un imperatore romano non è una macchina la comodo no è un imperatore romano comodo? no con una M allora con la M e con la K la cacca andrea andrea se poi tu te ne vai adesso probabilmente si cosa farà andrea ma se poi tu te ne vai dai 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 il tuo account amante e poi dal tuo account amante tu dai quello del tuo amico e mi facciamo salire no affatto voglio salirci io alle 4 di notte e allora che cazzo mi dici se vuoi ti do la candle il tuo amico stavamo assieme e tu non sei venuto quindi ho iniziato con Matte flight continuiamo eh 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 il cacca cacca tu hashtags ta 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 tu digestive da tu 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 ti g e eh In squadra siamo Di cazzo Siamo Prepararsi con il MG No Le 4 v4 Non ci credo Non ci credo No raga ma si capisce Competitive No raga Vai raga Vai raga Vai hai preso il tubo No raga No raga Che modalità della Madonna Che modalità E tra la Madonna veramente Raga Secondo me Le competitive Sono difficilissime perché Metti che Non ci sono le competitive Un 4 Che poi Vi immaginate se facessero tipo RLCS in 4 Figa Già adesso ci mettono i secoli Per fare un door Si Poi basta che Se ne mettono 4 in porta E neanche se bestemmi il Cristo Che che mi ha spinto Io non ho capito perché non si mettono Non fanno le 2 v2 Allora C'è Retropeisaggi PINCHI 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 FATERI TU TORNA NENU PINCHI 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 Facciamolo Basta Che io qui Taro Che Cazzo Facciamo le 5 v5 Fai le 5 v5 Fai le 5 v5 Vai andre Dai E ti vai E te Cosa E te Niente Che cosa Dove Sì ma Random Non competitive Aspettato il secondo Fatevi vedere come prosegue Unisiponi Competitive Sarta quel che vuole Asserci un qualcosa Cazzo Liverpool Sta soffrendo C'è in realtà Sta bucando Però Non sto facendo gol Fatemi vedere il partito Del football Che bugada Allora Mattea Ricchione Mattea Isaville No Non ho visto Non potevi mettere Dei gol Un po' più Come si dice Di quello Abbiamo fatto Non mi metto Ma Non mi metto A posto Da process Record Hano No ma Andrei Oh Cosa Pulse No Andrei Ma sai chi sono i Pulse Sì so chi sono i Pulse Ma non penso sia lui Beh per quello che sta facendo a vedere Secondo me Eh esatto Guarda che Dennis abbiamo già incontrato Dei pulse che ti facevano freestyle tutto il tempo Già questo qua mi ha feicato Poi fa Le madonna No non credo Adesso lo vedremo Ok si Guardalo 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 Oddio Eh vabbè Andè Mattea che ho incontrato un pro play Aspetta che vi vengo a vedere in live Torna un po' indietro Così vedi Mettiamoci a fare freestyle anche noi Oh ma sei Sei su la fa rocket No no Su la fa meno Ecco 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 Aiuto aiuto Albagliato Scemo Fenomeno Prima hai visto che cazza ha fatto prima Dio Dio Fai attenzione Lo fake attenzione Lo porto Lo porto Lo porto No Splode 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 Guardalo 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 Così Vabbè Cosa Ma che colpia ha fatto Oh mio Dio raga Ma che colpia ha fatto Orbi Ande fa il fake Ande fa il fake Vai 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 No Peccato anche lui Chissà se anche Danny sa farlo Danny forse sa di cosa parlo Cioè cosa fanno Madonna mia Ciao Danny Stanto dopo lo sentirà pure lui Perché dopo? Eh perché Cazzo ne so Dopodiché abbiamo incontrato un po' Payer Ma metto un minuto E lui chiaramente Andrà a vedere sia la live Perché Non ha un cazzo da fare Beh dal minuto Oh Raffa Raffa ferma Ma tu stasera random o competitive? No no Random Fra devo fargli un ceiling shot Sono contentissimo L'ho spinto Attenzione Sono fortissimo Lo bampo lo bampo lo bampo Ma che cazzo Bampalo No io sto andando a bampare l'altro Tucchia coglione Oh Raffa scrivi 1v1 ti prego Ma vai a fare in culo coglione I can't freestyle Scrivi dopo 1v1 I can't freestyle Ma veramente Ma quanti schiaffi vuoi da una 25? Cosa hai detto? I can't freestyle Sì sì Cioè Cioè Poi fare le madonne I can't Sì Andre vai Ho fatto dove? Stavo scrivendo Scemo Easy Ah puttana fa mamma Minchia La famissima di shot Oh mio dio Matte guarda Hai visto come cazzo Si è alzata la palla? Minchia Si è veramente un pro Coglione Ho vinto io il contatto Pezzo di me Oh Gli fa il culo? Che c'è Ma che c'è Sta risultando Non sono incazzato Odì Odì Sto risultando perché Lì percusa Mi c'è Oh Stacca E la posso No Io voglio vedere La partita Che cazzo è È un tizio Dei Ha fatto così Sì Madonna raga Van Dyke Quanto cazzo è forte È assurdo È veramente un mostro Vai a andare un colpo D'orgoglio Il crinico Eh però no Coglione No Dai Sei un po' Di cazzo Sicuro La prende Sicuro Te l'ha messa in mezzo Tutto tua Ok L'ho bumpato Sì vabbè Hai visto L'altro è un po' Un fallito Uno che fa finta Di saper giocare No Io vado Ciao 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 Che palle Vorrei Ti giuro che È colandre E ci mettevamo a platine Troppo bene Tra le partite Vorrei Io vorrei Che eliminassi Da campo Il suo amico Così tu c'è già il suo Eh ma poi E li faremo È salire troppo Cazzo Arriveremo A A Da In tre Secondi È babbolo Che palle Che palle Grazie a tutti.